Ecco come vi penso cari immaginativi, questo è un sondaggio che ho lanciato qualche settimana fa e ho scoperto che la maggior parte di voi vorrebbe creare video per lanciare un canale YouTube. Il risultato mi ha anche stupito. Comunque oggi ti presento 3 step per iniziare da zero con YouTube. Dopo la sigla. Ben ritrovati, oggi siamo su YouTube, sulla piattaforma e ti spiegherò come creare e far crescere il tuo canale come se fosse una pianticella che va curata e coltivata giorno dopo giorno. Quello che ti spiegherò si basa sulla mia esperienza personale, su tanta tantissima osservazione e anche sui libri e corsi fatti. Ad esempio se ancora non lo sapevi sappi che esiste una creator academy che propone direttamente YouTube e qua sotto in descrizione ti lascio il link. Voglio fare però una premessa. In questo video ti spiegherò come creare un canale di nicchia con argomenti molto specifici che è diverso dal diventare una web star che credo che nemmeno si possa spiegare. Occorre una certa inclinazione artistica e anche una buona dose di pubbliche relazioni. Ti posso assicurare però che un canale YouTube anche molto piccolino può dare tante tantissime tantissimissime soddisfazioni. E a questo è dedicato l'episodio di oggi. Certo è un percorso lungo che richiede costanza e tanta determinazione e ovviamente una buona dose di abilità per creare contenuti audiovisivi che sappiano emozionare e intrattenere. Ma non ti preoccupare perché tutto si impara. L'ingrediente fondamentale che ci devi mettere tu è la passione per quello in cui credi e che vuoi trasmettere a chi ti guarda. Ma sono abbastanza sicura che se ti trovi qui in questo canale per registi di imprese straordinarie la passione non ti manca. Ed eccoti quindi la mia formula in tre passaggi per iniziare a lanciare un canale YouTube. Primo definisci il tuo spettatore ideale. Se apri un canale YouTube non è per mostrare i video a tua mamma ma è perché ci siano delle persone, possibilmente tante, che guardino quello che stai, quello che vuoi comunicare. Quindi inizia a immaginare chi può essere che sta dall'altra parte dell'obiettivo. Raccogli informazioni laddove le possiedi e lavora di fantasia per le cose che invece non conosci. Inizia a mettere insieme delle informazioni e a scrivertele e soprattutto cerca di capire perché è interessato ai tuoi contenuti. Qualunque sia il tuo contenuto che sia cucina vegana, giochi educativi, viaggi oppure matrimoni. L'importante è capire il suo perché. Fai tutte le tue riflessioni rispetto allo spettatore ideale, mappe mentali o liste, quello che preferisci. Tieni presente però una cosa fondamentale. Il tuo spettatore ideale non sei tu. Può assomigliarti e può riconoscersi in te. Potete avere la stessa età anagrafica, ma il tuo spettatore ideale è diverso da te. Tu devi avere un surplus di conoscenza o quantomeno essere disposto a metterti in gioco e a mettere in gioco l'esperienza che hai già fatto. È questa distanza, questo cambio di prospettiva che è ciò che creerà l'interesse del pubblico verso di te. E' quello che permetterà al tuo spettatore di restare davanti al video dall'inizio alla fine per tutti i minuti che trascorreranno. Secondo, crea il personaggio. Inizia a pensare a te stesso come al protagonista di un film, o meglio ancora di una serie televisiva. Scrivi una tua biografia realistica, ma con un tocco di enfasi narrativa. Questo è un tema vastissimo che va sotto il nome di Personal Branding. Se non ne hai mai sentito parlare, chiedi a Google che ti darà come risposta articoli e libri sul tema. Per quanto riguarda le impostazioni di un canale YouTube, gli elementi di branding sono abbastanza semplici. È un po' come per un sito web. Riguardano l'immagine di copertina, l'immagine del profilo, la descrizione del canale e anche il video di presentazione che io, mi scuso, ma non ho ancora affatto. Di tutto questo però parlo meglio nel minicorso gratuito che puoi ricevere lasciandomi il link, lasciandomi l'email seguendo il link qua di fianco. Quando dalla definizione di un contenitore sul web passi alla creazione di un filmato, gli elementi di branding si espandono e riguardano a 360 gradi tutto quello che fai. E gli elementi di branding includono la tua gestualità, come ti vesti, come ti pettini, riguardano quello che hai dietro la schiena e quello che appare nell'inquadratura. Non c'è da avere ansia da prestazione rispetto a questa cosa, però avere consapevolezza di tutto ciò ti aiuta a iniziare a pensare e a definire quello che sei e cercare di dare un'immagine il più realistica possibile. Se non mi credi prova a fare una prova e guardare un video che sia dalla televisione a tubo catodico o che sia sul web e togli l'audio e prova a percepire quante sono le informazioni che ti vengono trasmesse senza audio, semplicemente dalle immagini che tu vedi. Terzo step, il più scontato, è trovare gli argomenti. A questo penso proprio che tu abbia già pensato e abbia già scritto una lista con 10-12 argomenti che vorrebbero essere i primi temi dei tuoi video e se ancora non l'hai fatto fallo subito. Quando pensi a titoli e descrizione ricordati del tuo spettatore ideale, cerca di usare le parole che lui stesso utilizzerebbe perché YouTube è un motore di ricerca esattamente come Google e ogni giorno vengono scoperti nuovi video semplicemente perché le persone inseriscono frasi o parole su cui vorrebbero avere ulteriori informazioni. Prova a cercare argomenti che siano ricercati ma non troppo e su questo punto ti do indicazioni di alcuni strumenti utili nel minicorso gratuito a cui puoi iscriverti seguendo questo link. Il consiglio extra è divertiti. Nonostante la sensazione di imbarazzo e quella sensazione di inadeguatezza che colpisce soprattutto gli introversi, raccontare e spiegare ti deve appassionare e ti devono brillare gli occhi al solo pensiero di costruire un intero episodio sulle cose che ti piacciono davvero. Trova la tua formula, io ho trovato la mia e questo fa parte del gioco e poi alla fine inizia. Mai ti sentirei pronto e mai lo sarai, quindi inizia perché alla fine si impara a nuotare solo quando nell'acqua ci sei davvero. Se in questo viaggio emozionante che è il lancio di un canale YouTube pensi di aver bisogno di una guida, segui la bottiglia e scopri come posso esserti di aiuto. Per il resto del minicorso gratuito, te ne ho già parlato abbondantemente, lasciami il tuo indirizzo email che te lo spedisco in sette comode email insieme alla newsletter mensile. Per il resto metti in immagini la tua storia e crea la visibilità che meriti.